Ben trovati, oggi voglio leggervi il racconto 24 tratto da I cento delitti di Giorgio Scerbanenco, edizione La nave di Teseo 2019. Quanto vuole, signorina? Il capo degli uffici acquisti non era un delicato diplomatico, ma avevano mandato lui dalla ragazza perché sapeva trattare gli affari. Non più di due milioni gli avevano detto. Quella ragazza è una strega che mira solo ai soldi e lui non si sarebbe lasciato prendere dalle smorfie e dagli occhi umidi di lacrime della strega. La ragazza scosse la testa, disperata. Io non posso lasciarlo, io gli voglio bene. Non era vero che gli voleva bene, lei lo sapeva, ma aveva tanti soldi quel ragazzo, non ne aveva mai visti tanti. Una sera aveva pagato 5.000 lire e tre rose in un locale notturno per darle a lei. Così non combiniamo nulla, signorina, disse il capo degli uffici acquisti. Doveva strappare Arimanti dalle braccia di quella strega. Il portiere si stava estupidendo con lei. Non faceva quasi più allenamenti, non voleva andare ai ritiri e l'ultima partita si era beccato due gol che li avrebbe parati anche una vecchia zia. Mi dica quanto vuole e vedrà che ci guadagniamo tutte e due, insistè. Era disposto arrivare anche a tre milioni, ma bisognava salvare la squadra. La strega alzò il capo, ora rabbiosa. Volevano comprarla? E allora l'avrebbero pagata cara, pensò la cifra più alta a cui riusciva a pensare. Centomila lire, disse. Veniva da un paese dove con quella somma una famiglia viveva tre mesi. Centomila lire per lasciare per sempre quel ragazzo e tornarsene al paese, se no lì in città finiva per rovinarsi davvero. All'udire quella cifra, il capo degli uffici acquisti, si accorse che la strega era solo una povera montanara, una ragazzina sciocca, scesa per sbaglio dal suo altipiano. Arimanti l'avrebbe dimenticata subito. Va bene, le firmo l'assegno, disse con freddezza, solo apparente. Io ho letto un racconto tratto dai Cento delitti di Giorgio Scerbanenco e spero che vi sia piaciuto.